ben tornata benvenuta grazie ben trovata fra noi perché questo ingresso festoso con mina oggi parliamo di mina tanto quando la la banda perché mina mi piace mi è sempre piaciuta e quando ero ancora giovane e anche lei era ancora giovane l'ho intervistata in un paio di occasioni e avevo scoperto un personaggio inedito a sé una donna di una timidezza quasi patologica che e soffriva quando doveva esibirsi in pubblico lui annuisce era proprio così e lei mi diceva soffro tantissimo e una volta l'ultima volta che la incontrai fu proprio la capannina poi famoso ultimo concerto e io dissi ma non puoi ritirarti sei fantastico non ci potevi credere che no e lei ha detto voglio vivere perché così non sto male grande scelta di saggezza allora sveva casa di modignani mercante di sogni allora mercante di sogni è l'uomo che in qualche modo ha stato il capo affondato il della borsa italiana no è una storia vera o meglio ispirata la biografia di attilio ventura che era appunto il il capo della borsa italiana quella delle grida no quella si vedeva nei film wall street è stato presidente per oltre vent'anni della borsa italiana ed è stato l'ultimo che ha guidato il passaggio dalla borsa gridata alla borsa telematica che è molto più triste anche se più è molto meno soffrendo molto mi disse ma perché ormai i tempi erano maturi la borsa italiana che nel mondo rispetto alle altre borse di tokyo di new york di londra era una piccola realtà diventando telematica si apriva al mondo nel romanzo si chiama remondo clementi e c'è però anche una bellissima storia d'amore no con tilli anch'essa un fondo di verità e che cosa di particolare questa storia d'amore e che cosa ti piace raccontare dell'amore allora io racconto gli anni dal 50 alla fine degli anni 80 racconto un'italia in continua crescita un paese bellissimo che era uscito distrutto dalle macerie della guerra e c'era la gioia della gente comune di sentirsi parte di una ricostruzione di una ma di una ricostruzione economica sociale politica è stata un'italia bellissima sono stati gli anni d'oro della borsa in cui ci si arricchiva in maniera sana parlando di soldi i romani dicevano pecunia non olet non sempre era così incontreremo poi nel romanzo della pecunia che invece è un pessimo odore ma in quegli anni i soldi avevano un buon odore perché la borsa si muoveva sulla produttività non c'erano le bolle speculative che abbiamo conosciuto anche nel 2008 no le man brothers eccetera e quindi era un periodo sano proprio veramente sano e in cui la gente aveva la felicità nello sguardo ora non ce l'abbiamo più no e perché secondo te perché secondo me adesso c'è gente che rischia tra poco di dover scegliere tra mangiare o scaldarsi e il tema è sempre economico quindi secondo te o c'è anche un punto diciamo di vitalità nel senso tu negli anni 50 si usciva dalla guerra per cui comunque si usciva da devastazione dal dolore più assoluto no noi diciamo usciamo dal covide c'è una guerra nelle nostre porte come li stai vivendo questi giorni male male ma non su questi giorni questi anni si sono tristissimi per tutti noi pure per te che sei una donna così piena di vitalità intelligenza scrivi racconti l'amore e racconto l'amore ma mi guardo anche intorno vivo in questo mondo parlo con la gente perché io vado al supermercato vado sul metro vado in autobus incontro le persone non si può essere scrittori se non si va sull'autobus secondo me diceva zavattini sugli sceneggiatori grandi zavattini come si era lui diceva che gli sceneggiatori devono salire sull'autobus e forse non si può essere felici se non si non si vive in un c'è la velocità è tale solo se condivisa no sei felice quando sai che lavori produci e starai bene quando non sai più che cosa devi fare e vedi intorno a te tanta insicurezza e capisci che chi guida le sorti del nostro paese non ha la competenza per farlo ma non da oggi da più di 20 anni e questa cosa è tiratrista molto dici tu allora volevo una curiosità sull'amore perché peraltro tu hai raccontato hai detto c'è questa frase che sta su tutti i siti no perché ha avuto diciamo tanto eco no e mio marito com'era non ha avuto il buon gusto di andarsene quando era ancora giovane sono fermamente contrari all'incontro fra una dentiera e una pancera ma no ma perché che cosa hai imparato andiamo avanti che cosa hai imparato sull'amore raccontandolo è più imparato sull'amore vivendolo o diciamo inventandolo come fa una grande romanziera l'amore non si impara ti nasce dentro l'innamoramento è qualcosa di inspiegabile misterioso che non sai da dove arrivi avevano ragione i greci quando lo raffiguravano come questo questo angioletto alato che scoccava la freccia dove colpiva colpiva certo che raccontare la realtà ma edulcorata attraverso le storie d'amore mi rende la vita meno dura perché amare è uno dei sentimenti più belli appaganti della vita a condizione che questo amore sia tra giovani ci torna ci torna perche' non ci si può ci si innamora a qualunque età allora se tu ti innamori a vent'anni è una cosa divina non so c'è proprio lo spirito divino La vita di una donna e di un uomo tra i 40 e i 50 anni, anche da un punto di vista sessuale, è molto appagante. Dopo quando cominciano i problemi delle dentiere e delle panceri, divento un po' più triste, un po' più malinconico. E neanche un grande amore spirituale ti fa superare l'orrore della dentiera e della pancera? L'amore spirituale allora è una bella amicizia e questa è altrettanto. No, cioè tu sei innamorato e quindi superi il fatto che il tuo partner appunto... Ma io mi rifiuto di pensare che a 80 anni un uomo e una donna si possono... Io mi rifiuto di pensare meglio. Ma perché? Paolo, sammina, nessuno, dai. Serena, ma non è vero. Ma non è vero, penso parte di partito. Ma non è vero, perché io, a parte il fatto che è banale dirlo, l'amore non ha età, e questo lo sappiamo tutti, però credo che sia un punto di arrivo per una persona che arriva ad una certa età, arrivare ad innamorarsi, sia come raggiungere un traguardo sentimentale, che pensava di non mai raggiungere. Il mondo è bello perché va, noi siamo tutti libi di fare quello che ci pare, pit stop, mina. E' vita. Dai, nessuno. Non ti giuro, nessuno può darmi il volo di tutta la vita, la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, Soltanto tu, passato e avvenire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché quest'amore nel cielo ci dà, ma sempre vibra. Nessuno, ti giuro, nessuno, può darmi il dono di tutta la vita, la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sono proprio gli anni di mercante di sogni, da ragazzina com'era il tuo rapporto con la famiglia, con tua mamma, insomma, l'educazione che hai avuto? Molto severa, e da parte soprattutto della mia mamma, io ero molto disubbidiente, non ero una bambina docile, e quindi qualche volta mi portavano dal prete perché mi benedicesse, perché avevo addosso il diavolo. Ma che facevi? Facevo, mi ero messa una specie di abito talare e cercavo di dare la comunione con le ostie che la nonna usava per mettere dentro bicarbonato e ingerirle e fare queste... Medicine, si fa delle cialde. Sì, con queste cialde. Io facevo la comunione e dicevo domilus vobiscum e davo la comunione al gatto. Al gatto? Mi sentivo molto... Allora, una scoperta continua. Mi sentivo investita di qualcosa di molto solenne, perché la nonna mi portava in chiesa tutte le domeniche e io guardavo il prete con tanta ammirazione, perché c'era qualcosa di misterioso che mi stuzzicava. Io non avevo ancora fatto la crisi, non ero ancora andata a scuola. Però diciamo, capivi che lì, tipo Rossellino di Spandale, capivi che lì c'era l'autorità, no? Ecco, lì c'era qualcosa di misterioso, di affascinare. E allora avevo preso le... La nonna si lamentava, diceva non capisco, ho comprato le osse in farmacia, un sacchettino di osse, una settimana fa e non ce n'è più. Ma ero io che giocavo a far... a darla comunione al gatto. La nonna a un certo punto mi sorprese e urlò, sacrilegio! E allora mi agguantò e mi fece venire il sediolino rosso. Dopodiché mi prese per mano, era estate, aprì il suo ombrellino perché non voleva prendere il sole e mi trascinò dal parroco dicendo, Don Giuseppe, benedica questa bambina perché era addosso il diavolo. Perché addosso quanti anni avevi? Cinque anni. Amore tenera! E hai sempre disobbedito nella vita? Brava! Sì. Qual è una disobbedienza che vorresti compiere ora ma non ne hai il coraggio? Sono diventata una persona, una vecchietta anziana, molto docile, molto remissiva. Ma non c'è da nessuno! Qualche volta mi diverto a scrivere messaggi non so, alle autorità. Per esempio, quando il comune mi dice che devo spostare dei panettoni di cemento da mezza tonnellata che ho pagato e fatto mettere davanti al cancello di casa mia per poter entrare, allora mi scrivono, mi dicono devo rimuoverle a spese mie, tenermeli in casa perché devono trovare altri tipi di dissuasori e allora io rispondo al comune e dico che se questa richiesta mi fosse venuta dal vicino di casa avrei chiamato l'ospedale, messo in atto un TSO per farlo e il sindaco ti risponde. ma trattandosi del mio comune io sono smarrita di fronte a questa cosa e mi dico come possono pensare che un'anziana di 84 anni possa andare lì a rimuovere questi panettoni dove mi metto in salotto e dico dovete mettere altri tipi di dissuasori arrangiatevi, fatelo, paghiamo le tasse per questo. Senti Sveva, è sempre adorabile ascoltarti, Mercante di Sogni e appunto l'ultima sua fatica letteraria c'è in Milano. Non dire fatica. Geniale, geniale. Cos'è? L'ultima sua creazione? Gioia. Gioia letteraria. Me lo dici a parte la scrittura perché cosa vale la pena vivere secondo te? Ma per guardare il sorriso dei bambini. I bambini sono la speranza di tutti noi credo e mi auguro avendo io dei nipoti proprio giusti che il mondo di domani sarà migliore di quello che noi gli lasciamo. Grazie Sveva. Grazie davvero per essere con noi. Sei sempre un nostro faro. Torna quando vuoi e noi ti leggiamo sempre con tanta attenzione. Grazie. Gioia.